Siamo in Piazza della Repubblica, uno degli amici di Ferret, ragazzo che scappando dalla polizia è affogato qui nel posto. Voi come amici siete a manifestare qua, cosa volete dire alla stampa? Quello che è successo noi non lo accettiamo, questo è un rassismo, perché ci sono di la gente che hanno sentito i suoi urli, questi ragazzi, tutta Piazza della Repubblica. Cosa intendi per il rassismo? Perché ce l'hanno solo con questa razza, con la nostra razza, ci sono alcuni poliziotti che vengono questi ragazzi, lo picchiano, lo rubano, lo rubano soldi, li picchiano. La polizia viene e picchia voi, li ruba soldi? Ci sono gente che non conosciamo, ti portano in un posto isolato, ti portano sulla montagna, a me l'hanno fatto una volta, chiedi, a tanti di noi l'hanno fatto, ti portano sulla montagna, ti picchiano, o ti picchiano, ti portano la montagna o ti buttano il fiume. Questa volta sono arrivati al limite, che è andata malissimo, che hanno ammazzato uno di noi questa volta, va bene? Noi non siamo zitti fino a che non avremmo zitti. Raccontami un attimino questa situazione che loro, la polizia, viene, vi prende, vi porta nei boschi, vi picchia. Sì, vi picchia, ti togliono le scarpe e ti abbandonano lì. E ti rubano anche soldi? Ti rubano soldi, i poliziotti li conosciamo noi. E cosa? Senza documenti, senza documenti, chi ti crede, chi ti ascolta? Per quello loro si abusano, fanno abuso di poteri e se ne approfittano, capito? Questi sono una banda, non sono poliziotti, che hanno poliziotti che fanno rispettare la legge, questi si abusano, capito com'è? E' successo a tanti che hanno picchiati, l'altra volta un ragazzo lo vogliono buttare nel fiume, le teneva un poliziotto, lo conosciamo noi come si chiama. Teneva la sua gamba e gli chiedeva per favore, davanti ai suoi amici lo voleva buttare nel fiume. Questa volta questo ragazzo da solo l'hanno corso indietro, uno non sa notare, scappava dalla polizia, arriva lì e giù, uno sapeva se si buttava o moriva. Come fa a buttarsi che sapeva se moriva questa persona? La gente, ci sono testimoni che hanno visto che l'hanno schizzato picchiato, l'hanno picchiato a morti, l'hanno buttato nel fiume, poi sono saliti, poi sono tornati di nuovo e poi dopo hanno fatto loro telefonate e cose per coprirsi, capito? Noi vogliamo giustizia, non siamo più zitti noi. Ecco, senti, raccontami un po' la storia di questo ragazzo, quello che conosci, da dove viene? Un ragazzo, un ragazzo tunisino, ha cinque mesi qui, ha 25 anni, ha cinque mesi in Italia, non lo so neanche parlare, non ha documenti, ha paura, vedi la polizia e scappa. E loro pensano che lui ha qualcosa o non lo so, una volta che li fermano scappano, non capisci. Lavorava da qualche parte? Non c'è documenti, poverino, la verità, e qui non lo so, si vendeva un pezzetto di fumo per mangiare, non è che, per vivere, per mangiare, non è che, capito? Capito. Una vittima del sistema, è venuto qui e pensava, mica ha portato lui la cocaina o il fumo, l'ha portato con sé nella barca, è una vittima di questo sistema qui. E poi lo prendono e lo picchiano, lo ammazzano così, come un cane, noi questa cosa non la accettiamo affatto, questa cosa. Ti ringrazio molto gentile, grazie. Grazie.